Grazie Presidente, Presidente von der Leyen che non vedo più. Tralasciamo l'ennesimo libro dei sogni e concentriamoci su un bilancio che ha qualche luce, sì, ma anche troppe ombre. Bene, l'idea del debito comune per finanziare la ripresa, ma male, i ritardi, le condizionalità politiche contro i governi che non si allineano ai diktat della Commissione e il tentativo di troppi di riportarsi indietro alla stagione dell'austerità che rischia di vanificare la ripresa. Ci saremmo aspettati politiche per la famiglia e la natalità e invece si è piegata alle lobby arcobaleno. Ci saremmo aspettati nuova linfa, l'economia reale e invece abbiamo l'ideologia green del Green Deal che impone oneri insostenibili alle nostre imprese e ci rende più dipendenti dalla Cina, altro che autonomia strategica. Ci saremmo aspettati la difesa delle frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata e invece abbiamo nuovi record di sbarchi e pochissimi rimpatri. Ci saremmo aspettati un'Europa protagonista sulla scena internazionale e invece dopo l'Afghanistan sappiamo solo parlare di profughi mentre il fondamentalismo dilaga di nuovo. Noi vogliamo un'Europa diversa, Presidente, che faccia meno ma meglio, rispetti la sussidiarietà e la sovranità degli Stati nazionali. È l'unica Europa che può davvero funzionare.